Vediamo come creare un mini set per la fotografia Still Life. Puoi seguire questi passaggi. Scegli il tuo sfondo. Puoi utilizzare un tavolo o una superficie piana come base per il tuo set. Puoi optare per uno sfondo neutro come una parete bianca o un pannello di legno. Oppure puoi utilizzare tessuti o carta colorata per aggiungere un tocco di personalità al tuo set. Gestisci l'illuminazione. La luce è fondamentale nella fotografia Still Life. Puoi utilizzare la luce naturale posizionando il tuo set vicino a una finestra o puoi utilizzare l'illuminazione artificiale con l'ausilio di lampade o flash. Sperimenta con diverse angolazioni e intensità di luce per ottenere l'effetto desiderato. Organizza gli oggetti. Posiziona i tuoi oggetti in modo creativo sul set gioca con la composizione, la prospettiva e l'equilibrio. Puoi utilizzare accessori come piatti, posate, fiori o altri oggetti per arricchire la scena. Sperimenta, non aver paura di sperimentare. Prova diverse angolazioni, prospettive e impostazioni della fotocamera. Gioca con l'uso di riflessi, ombre e sfocature per creare immagini uniche e interessanti.